Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo di narrativa contemporanea che catturà la luce e le ombre delle anime di dei uomini lontani nel tempo. Il risultato è un romanzo immaginifico, selvaggio e intenso come il cielo del nord, con una scrittura musicale che racconta la perdizione dell'arte e la forza di sentimenti refrenabili, esplorare il lato scuro dell'arte e della psicomana che spinge il lettore a riflettere sulle sfumature della creatività e sulle sfide che possono accompagnare il processo artistico e la creazione letteraria. La trama del libro Melancolia, volume 1 e 2, dello scrittore John Foss, premio Nobel per la letteratura, anno 2023, casa editrice La nave di Teseo, è la seguente. 1853. Il giovane pittore Lars Erderving, allievo all'Accademia di Belle Arti di Düsseldorf, è un'anima requieta, divisa tra l'insicurezza verso il suo talento e l'amore per Helen Wilkeman, la figlia della sua padrona di casa. L'ossessione di Lars per Helen, accesa da furiosi deliri sessuali, diventa così strabordante da costringere la famiglia della ragazza ad allontanarlo dalla stanza in cui lui alloggia. Senza più un posto dove andare, Erderving passa il tempo in un locale, tra gli scherni dei suoi raffinati compagni di corso, mentre fa la posta all'appartamento dei Inkelmann, dove cerca disperatamente di essere riammesso. Un limbo che inesorabilmente lo conduce alla follia, in un labirinto della mente a cui soltanto la sorella maggiore Olinne può avere accesso. 1991, uno scrittore trentenne, Widme, resta affascinato da un quadro di Erderving e vuole raccontarlo in un romanzo, ma i tormenti di quel pittore attraversano i secoli e arrivano sulle pagine di Widme, che dovrà combattere per scrivere il libro anche contro i propri fantasmi. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura, condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.